Franci! Ciao! Mi mani dalla Poglia la sera, mi ha detto dai cara, la rietta, la ricetta quando ci fanno il cuore, ci fanno la testa e va bene, non ci fanno il cuore, ci fanno il cuore non ci fanno il cuore, non ci fanno il cuore non ci fanno il cuore, non ci fanno il cuore no no no, c'è un mal di destra mi va avanti da settimana, 10 giorni in sta scorsa il marito non ce la fa più la moglie la sera mi fa mi dica oggi dobbiamo fare il cuore, ma è un mal di destra ci fanno uscire un attimo in po' d'aria fresca si fa bene, adesso, tutto quanto ma fa una passeggiata ma allora la moglie si decide a volte stavano a camminare e lo passano davanti all'urzore allora dice dai non ci fanno tutti qui c'è una scorsa a volte va avanti alla gabbia del gorilla e il gorilla come vede questa comincia a fare tutto gli piace il gorilla, un animale come gli piace? ma gli piace, guarda fagli vedere la gomma fagli vedere la gomma dicendo che c'è nessuno e non è male e questa si decide gli fa vedere un pezzo se viva sulla gomma il gorilla ha detto cominciato con queste inferiate la gomma comincia a sbattere i pugni dai fagli vedere il seno fagli vedere il seno ma l'animale ma fagli vedere il seno se decide di fare vedere il seno il gorilla apre la gabbia e chi ha pesati là dentro e il marito racconta che ci ha mandato il resto il marito racconta non c'è nessuno che si vede